ciao veronica ciao a te a tutti coloro che ti seguono il tuo stupendo canale di youtube dove parli di attualità dove intervisti persone molto interessanti ti occupi di arte di cultura e mi hai anche intervistata quindi volevo darti un'anteprima nel frattempo sono successe tante cose una delle quali è successa da pochissimo sono elettrizzata la fondazione fgs di casano magnago ha un faro veramente di cultura di luce in mezzo quasi al nulla nel varisotto praticamente una fondazione importante che si occupa di artisti importanti mi ha invitata a tenere la mia prima mostra personale nella sua sede una cosa incredibile perché non me la sarei mai aspettata avevo già programmato una mia prima personale a giugno in sardegna ma mi hanno anticipata e chiaramente non posso dire di no ad una fondazione così importante che tra l'altro mi ha dedicato quasi un mese per la mia mostra e con l'inaugurazione il giorno 8 marzo festa delle donne chiaramente non a caso loro hanno seguito ai miei lavori che si occupano di problematiche sociali culturali inerenti al mondo femminile e con profonda sensibilità nei confronti della violenza di genere e della mancanza di libertà del tutto ciò che significa mercificazione del corpo e alienazione degli esseri umani che è quello che trovi nella mia pittura chiaramente con solo ci trovi la sardegna ci trovi i miti ci trovi le idee però la tematica femminile con la violenza di genere è molto 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 presente sai che la mia pittura è nata così da un'esigenza mia interiore io ve l'ho già detto io non dipingevo sono autodidatta ho sentito veramente la necessità di parlare di me e quindi delle mie esperienze e questo è venuto fuori nella mia pittura i fondatori di questa di questa stupenda fondazione fgs hanno notato questo impegno hanno apprezzato le mie opere e mi hanno invitata quindi questa è la notizia stupenda sono devo dire me la faccio addosso perché fra pochissimi giorni ho avuto pochissimo tempo di preavviso e comunque inaugurazione l'otto marzo in come vedete via 5 giornate 28 a castano magnago nella fondazione fgs ci sarà la mia mossa che basta alla violenza sulle donne anticipata da da una conferenza per l'otto marzo e da interventi di psicologi e persone che si occupano della tematica femminile e poi la vera propria inaugurazione comunque i miei quadri ci saranno già la vera propria inaugurazione sabato sempre in quella sede aspetto numerose le persone che vogliono venire a condividere con me questa gioia sperando che le mie opere parlino loro chiaramente la cosa peggiore che potrebbe capitare non che non gli piacessero le mie opere ma che lasciassero le persone indifferenti ringrazio te per avermi concesso questo questo spazio quindi vi aspetto dal 8 marzo al 29 marzo potete chiedere informazioni sugli orari al 351 865 3890 grazie grazie veronica grazie a tutti voi che seguite questo stupendo canale ci sentiamo presto vi manderò dei video con aggiornamenti sulla mia mostra